Allora, riprendiamo il nostro discorso sui file. Lunedì abbiamo cominciato a vedere quali sono le funzioni principali per la lettura di un file di testo e ci eravamo soffermati rapidamente su questa slide. Principalmente ci eravamo soffermati su una lettura di una riga per volta, però qua ci dice anche come fare per leggere quantità diverse di informazioni. Poi magari nel fare gli esercizi cercheremo di usare un po' una o un po' l'altra, però molto spesso quando le informazioni sono organizzate per righe il modo più semplice è quello di fare un ciclo form, ma non è l'unico. Non abbiamo invece lunedì citato le operazioni di scrittura. Quali sono i modi per invece creare un file? Allora, scrivere un file significa appunto creare un file che prima non esisteva e metterci dentro le informazioni che voglio. Dico che prima non esisteva perché nel caso in cui esistesse viene prima cancellato e poi ricreato da zero. Cioè io quando faccio la open di un file specificando come secondo parametro la w per dire write, voglio scriverci, questo file viene creato o nel caso in cui esista cancellato e ricreato. Quindi parto da un file sempre, ogni volta che apro un file in scrittura sto creando un file vuoto. E ho essenzialmente due metodi per metterci dei contenuti dentro questo file. Il primo metodo si chiama write, che ha come parametro una stringa e aggiunge al file la stringa che gli abbiamo dato. Quindi una sorta di print, solo che anziché printare la video, printa dentro il file. Con l'attenzione che il carattere di a capo non viene aggiunto automaticamente dalla funzione write. Quindi se io voglio che le informazioni nel file siano separate su righe diverse sono io che ci devo mettere il barra n finale al termine di ogni stringa che sto stampando. Quindi devo stampare il biodato più barra n, lo concateno. Oppure userò tipicamente un f string in cui ci metto i dati che voglio e poi devo ricordarmi di terminare col carattere di fine riga. Così posso combinare i dati come se li stampassi sullo schermo o semplicemente anziché vedermeli vandranno a finire nel file che sto creando. Questo è il metodo write. In write c'è anche un metodo write lines con la S plurale. Non c'è un metodo write line singolare. Nel read line c'era read line singolare mi legge una singola riga. Read mi legge un carattere, n caratteri o tutto il file di botto. Mentre invece in scrittura non sono esattamente simmetiche le funzioni ho una write che scrive di fatto tanti caratteri quanti gli do oppure una write lines che è la sorpresa di read lines ma non c'è una write line. Perché non c'è una write line? Perché non serve di base. Perché se voglio scrivere una linea scriverò una stringa che termina col fine linea. Se voglio scrivere una parte di una linea quindi non una linea intera farò una write di una stringa che non contiene il fine linea. Quindi non serve una funzione separata per dire fammi un'avrite di questo e poi aggiungi il fine linea. Non siamo in alfabeti il fine linea ce lo sappiamo aggiungere da soli. Dimmi. Il file di output non deve essere vuoto ma lo sarà. Nel senso che se il file di output non esiste viene creato. Se esiste viene cancellato e poi ricreato. Quindi viene svuotato in automatico. Nel momento in cui tu fai la open in scrittura che abbiamo qua. Una open in scrittura. se quel file che in questo caso si chiamava output.txt esistesse già viene perso il suo contenuto. Ok? Quindi può anche esistere ma io lo distruggo. Prima di scriverci. Ecco dicevamo write line non serve perché concettualmente la funzione write è già capace a scrivere o un pezzo di una riga o una riga intera. Dimmi. Dove lo crea il file? Allora il file lo crea, torniamo qua, adesso poi, quando io creo questo il file viene creato nella cartella da cui è stato avviato il programma che può essere la cartella che contiene il file Python oppure la cartella di progetto che ho aperto quando ho aperto WS Code. Ne parlavamo l'altra volta, io qui ho aperto un progetto che si chiamava settimana 2023 ma il file Python è dentro una cartella settimana 10. Allora quando apro un file lettura o lo apro in scrittura lui lo cerca, cerca di crearlo, cerca di leggerlo o in questa cartella qui che contiene il file Python oppure nella cartella del progetto. E che cos'è che decide? Quindi se fa una cosa oppure l'altra l'impostazione di WS Code che avevamo visto la volta scorsa che, ripetiamo, era qua su questo slide, a seconda che nelle impostazioni di WS Code ci sia impostata o non impostata questa casellina, esegui nella stessa directory del file, se è impostata questa casellina allora il file viene creato o cercato nella stessa cartella che contiene il Python. Se questa casellina non è spuntata, quindi è vuota, allora il file viene cercato nella cartella più alta, principale del progetto. Ovviamente questo fa differenza solamente nel caso in cui abbiate un progetto con tante sottocartelle, se invece avete aprito direttamente la cartella che contiene il file non c'è differenza, lavora in quella cartella lì. Se voglio aprire o creare il file in cartelle diverse devo indicare il percorso completo del file, separandolo con le sbarre, eccetera. L'altra funzione che si usa poco per scrivere il file è quella che si chiama write lines, con l'essere plurale, che riceve, ha bisogno come parametro di una lista di stringhe. La read lines che avevamo visto qua, non l'abbiamo mai usata negli esempi ma l'avevamo descritta qua, la read lines cosa fa? Ce l'abbiamo qui, la read lines legge l'intero file, divide le righe in tante stringhe e mette tutte queste stringhe in una lista, quindi mi trovo già una lista di tante stringhe. Write lines crea un file partendo da una struttura di questo genere, cioè gli devo dare una lista di stringhe e lui mi crea un file nuovo con tante righe, quante sono le stringhe. A patto che, e questa è un po' una schifezza, noi ragioniamo che questa possa essere una lista di righe, ma in realtà le righe devono già contenere ciascuna il suo terminatore barrenne, non viene aggiunto in automatico. Così come la read lines non lo togli in automatico, la write lines non lo aggiungi in automatico. Questo barrenne rompe le scatole sempre, perché a volte c'è, a volte non c'è, devo mettere e lo togli. Di solito c'è sempre, quindi quando leggo me lo ritrovo e quando stampo devo aggiungerlo. Dimmi. Sì? Vediamolo, dai. Quindi prendiamo un file qualunque, che so, quello dei voti, no? E facciamo un programmino così ci pratichiamo con queste due funzioni. Vabbè, esempio, punto file. Proviamo a leggere, usare read lines, no? L'altra volta non l'abbiamo usata, vediamo cosa fa. Io posso leggere un file, file voti, con open. Aspetta che mi grandisco ancora un po' i codi e il solito del ponte. Open. Il nome del file era voti.txt in lettura. E posso fare un voti, tabella voti, chiamiamola così, underscore voti, uguale file voti, punto read lines. Questa è l'unica istruzione, mi legge l'intero file, esaurisce tutto ciò che c'è da leggere, quindi in realtà questo file voti e subito dopo non mi serve più, quindi tanto vale chiuderlo. E vediamo che cosa ha ottenuto. Se faccio una print di tabella voti in fondo. Mi farà vedere questo. Mi fa vedere. Allora, questo print ha stampato esattamente il risultato del metodo read lines. E quindi mi ha restituito una lista, guardiamo la parentesi quadra, una lista di tre elementi i quali sono stringhe, che contengono ciascuno una riga del file con barrenne finale. E' come se facessi tante volte il read line e mi mettessi con un append le varie righe che leggo all'interno di una lista. Però mi fa tutto in un'istruzione sola. Scusa? Allora, se mi danno fastidio i barrenne li devo togliere. Per toglierlo, lui suggerisce, usiamo strip, sì, però attenzione che non lo posso fare su tabella voti, lo strip perché tabella voti è una lista, non è una stringa. Dovrò iterare sulla tabella voti e per ciascun elemento toglierli. E quindi, va bene, si può fare benissimo. For riga in tabella voti. Non vorrei, for scusate, for i in range length tabella voti. Tabella voti di Uguale tabella voti di Punto strip O rstrip se vogliamo solo cancellare a destra. Allora, a questo punto Ho letto, read lines mi legge queste cose, ma io avendogli fatto lo strip Ho tolto gli spazi eventuali che c'erano prima e dopo Cioè, tassi iniziali e spazi finali della string. Io stavo per Scrivere in modo Errato questo ciclo for Adesso ve lo scrivo così ci ragioniamo, approfittiamo del mio errore che Stavo per scrivere for riga in tabella voti Che era figata perché io uso il ciclo for E torrando direttamente sugli elementi, non sull'indice Devo fare il range del length, eccetera E mi verrebbe da scrivere Questa cosa qua Questa sembra la stessa cosa Ok? Con la differenza che questa non funziona Cioè, sembra quasi che dici Ma sì, tu stai iterando sull'indice Oppure iteri sul valore In entrambi i casi sostituisci a ogni riga della tabella La sua versione Strippata Ma alla fine Non è strippato niente Perché? È per colpa di questo uguale Perché io prendo una per una Le righe della tabella Della lista Assolutamente sì Faccio lo strip su ciascuna Assolutamente sì E poi questa riga Strippata La salvo in una variabile Che si chiama riga Che è diversa Cioè non la salvo dentro la lista Ma sto creando Sto modificando il valore Della variabile riga Facendola puntare a questa riga strippata Però Se io lo vedo Come struttura dati Dentro il ciclo for Riga assume Un alias Sulla prima stringa Un alias Sulla seconda stringa Un alias Sulla terza stringa Stringhe sono immutabili Quindi io ciò che posso fare È Creo la stringa strippata E faccio in modo che riga Appunti alla nuova stringa strippata E questo si fa Funziona Peccato che la lista Di partenza Tabella voti Non si accorga di nulla Perché la prima posizione Di tabella voti Tabella voti di zero Continua a puntare Alla prima stringa Quindi ho creato Un nuovo valore L'ho associato a una variabile Ma questa variabile Non è andata a modificare Il link Che avevo dentro la lista Ok Quindi facciamo attenzione Quando voglio modificare Il contenuto di una lista Alla fine Devo esplicitamente Modificare L'iesima cella Di quella lista Non un alias Che inizialmente Puntava a quella cella Ma poi quando calcolo Il nuovo valore Va a puntare fuori Ok Quindi Quindi E' più lungo da scrivere Ma E' l'unico modo Non è l'unico Diciamo così Dopo un po' Io Preferisco usare Una comprehension Che è una versione Un po' Abbreviata Del ciclo for Avrei scritto A distinto Avrei scritto Tabella voti Crea a me Una nuova lista Che contenga Per ogni riga Nella tabella voti Precedente Mi contenga La riga Punto strip Questo fa la stessa cosa In realtà non è che fa la stessa cosa Perché mentre prima Non è chiaro Che sta succedendo qua Io sto iterando Con una comprehension Che mi crea Una nuova lista In questa lista Metterò degli elementi Che cosa sono La riga Punto strip Dove riga A turno Assume I valori Della tabella voti Precedente Quindi in questo secondo caso Funziona Funziona in modo leggermente diverso Perché mentre prima Stiamo con queste due righe qua Sto modificando i valori Di quella lista là Della lista tabella voti In questo secondo caso Sto creando Una nuova lista Con i valori modificati E poi sto cambiando Il valore della variabile Per puntare a questa nuova lista Quindi se io questa cosa qua La facessi dentro una funzione Questo segno di uguale Mi perde l'alias E quindi non stare modificando La lista precedente Lo so che è una parte rognosa Insisto sempre su questi aspetti qua Ma poi Quando uno scrive del codice Si dice Ma non mi ha modificato i dati È perché a volte Li ha modificati Su un valore Che non è più un alias Ma è una variabile separata Quindi dobbiamo fare Purtroppo attenzione A questi dettagli Quando c'è un uguale Devo sempre fare attenzione A che cosa sto modificando Ok E questo è il funzionamento No? Eravamo partiti per dire Come funziona Readlines Readlines restituisce Una lista di stringhe Poi vale tutto quello Che abbiamo fatto Giocando con le liste di stringhe Prima di conoscere i file Da quel momento in avanti L'ho letta E se io volessi ad esempio Invece costruire In output Un file che contenga solamente i voti Per dire Solo i numeri I punteggi Cosa posso fare? Beh potrei aggiungere qua Due righe di codice Che dicono Apriamo un file in uscita File con solo i punteggi Apriamo un file Che chiamiamo Punteggi.txt E questa volta Lo apriamo in modalità scrittura Quindi stiamo creando Un nuovo file Dentro cui Andiamo a mettere Magari appunto I punteggi Dei vari esami No? Solamente il punteggio Non i crediti Non Allora cosa faccio? Vado a iterarmi La mia tabella dei voti Por voto In tabella voti Devo estrarre il punteggio E il punteggio come ce l'ho? Beh ricordiamoci La tabella è fatta così Quindi Il punteggio è l'ultima Componente numerica Quindi dovrò prendere questa riga Dividere i campi Separando gli spazi Prendere l'ultimo campo Convertirlo in intero Per estrarre il 30 Per estrarre il 25 Quindi questo voto Rappresenta L'intera riga Sotto forma di stringa A cui abbiamo tolto il barra N Perché ci dà fastidio Adesso Devo estrarre il punteggio specifico Cosa faccio? Prendo il voto Che è la stringa Lo divido Dove trovo degli spazi Voto.split Che cos'è? Cosa ho qua? Ho una lista di stringhe Una lista di stringhe In cui il primo elemento È il nome del corso Il secondo elemento È il numero di crediti Il terzo elemento È il voto Sotto forma di stringa A me interessa il voto E quindi prendo solamente Il terzo elemento E mi interessa Sotto forma di intero E quindi tutto questo Farò un int Ok? Questa parentesi quadra Messa di strana Ma perché semplicemente Ciò che viene prima Della parentesi quadra È una lista La lista che mi tira fuori Lo split E quindi l'elemento 0 È il nome del corso L'elemento 1 È il numero di crediti Sotto forma di stringa E il terzo è il numero Del punteggio Sotto forma di stringa A questo punto Posso scrivere Sta roba dentro il file File punteggi Punto write Vuole una stringa Da stampare Allora una stringa Dovrà contenere Il numero Il punteggio E la capo Il barra n Non posso scrivere punteggio Perché punteggio È un intero Quindi mi darebbe E poi non metterebbe La capo Quindi tipicamente Ci metto Un f stringa In cui ci metto Punteggio La variabile È un intero Non serve Formattarla Ma se volessimo Qua ci aggiungiamo Le istruzioni di formattazione E un bambella a capo E alla fine Sono un ciclo for Quindi per ogni voto Che trovo Estraggo il suo punteggio Lo scrivo sul file E alla fine Chiuderò il file Quando ho finito Di scriverci dentro Teniamo presente Che per ragione Di efficienza Quando faccio Una write Di solito Python non va A scrivere Immediatamente Dentro il file Per ridurre Il numero Di accessi a disco Praticamente Quello che fa È Si tiene da parte Le cose da scrivere E le scriverà Tutte insieme O quando ho raggiunto Una certa quantità Oppure quando chiudo il file Quindi il file Lo vedrete Se avessimo un programma Che gira per lungo tempo Vedete che il file Di uscita È sempre zero byte Quindi quando faccio close Che invece Diciamo Istantaneamente Cresce di dimensioni Quindi non aspettiamoci Di vedere il contenuto Del file Crescere via e via Dimmi Allora Lui vuole fare Una cosa diversa Che era scrivere Dimmi se ho capito Provo a scriverlo Poi ci ragiono Perché di due cose insieme Non riesco Int di Vuoto Di due Punto split Carina questa No che non funziona Nel senso Che non ti dà Errore Di sintassi È una sintassi Perfettamente lecita Ma non fa Quello che vuoi Proviamolo Interattivamente Allora Abbiamo detto Che vuoto Cosa può essere Voto Era una stringa Tipo questa Copio qua E incollo qua Ok Possiamo perdere questo Che c'è Sportacato Ok Voto E questo Prima faccio vedere La mia Ok Io ho fatto Voto.split Che mi ha creato Una lista Di tre elementi Separando La stringa Di partenza Dove c'erano Gli spazi A questo punto Ho preso Il secondo elemento Terzo Scusatemi Terzo elemento E' una stringa E' una stringa Che contiene Il 30 Di cui ho fatto Un int Ok Quello che suggerisce Il vostro compagno È dire Sempre partiamo Da voto Faccio voto Di 2 Cos'è voto Di 2 F È il terzo carattere Della stringa Perché a questo punto Voto è ancora Una stringa E il voto Di 2 Punto split È una lista Che contiene Visto che La stringa F Non contiene Degli spazi Del suo interno Quando la splitto Sugli spazi Mi darà una lista Delle varie componenti Che ne trovo Una sola Potete immaginare La felicità Di int Quando cercate Di fare Di fare Di fare Un int Di una lista Che contiene Una stringa No? Quindi Facciamo sempre Attenzione Ogni volta Che facciamo Un'operazione Il tipo di dato Che otteniamo Cambia E posso fare L'operazione Che abbia senso Per quel tipo Di dato Li Quando io Scrivo Capisco il ragionamento Intuisco Voto di 2 È La terza cosa Che c'è scritto Dentro voto Sono d'accordo A parole Però se vota Una stringa La sua terza cosa Non è la terza parola Ma è la terza carattere Per ragionare In termini di parole Devo Insegnargli Come fare A prendere questa lista E dividerla In blocchi di lettere In parole Secondo un certo criterio Ad esempio Split Usa lo spazio Come criterio Ma lui Non può avere L'intuito Di dire Due Intendi Secondo carattere O la seconda parola O il secondo capoverso No È una stringa Due carattere Ok Grazie per la domanda Sempre divertente Dimmi Allora Se il file Non venisse chiuso Esplicitamente Alla fine Tutti i file Vengono comunque Chiusi automaticamente Quando il programma termina E quindi al termine del programma Il file verrebbe chiuso E quindi i dati Verrebbero salvati Ok Sì Il problema è Se un file Invece sta andando avanti Magari faccio input Output input Output Una read Una write Una write Fino a quando Non ho chiuso il file Le write Non si vedono Tra virgolette Però al termine del programma I file vengono chiusi tutti Automaticamente Vengono chiusi tutti Da python Dicendo ok Prima di morire Chiudiamo i file Allora Vediamo questa cosa qua Se funziona Adesso Vabbè qui La stessa stampa Che avevamo prima Ma Tra i file Di questa cartella È compasso Un punteggi Punto dxt Che contiene Guarda caso Queste tre cose qua Dimmi No U è Perché io Ho il versionamento Dei file Dice un file Non versionato Un file nuovo Quando io Vi salvo I file su github Ho Plugin git Che mi tiene Le versioni Le modifiche Dei file Non c'entra niente Col programma Ok Quindi abbiamo creato Un file Di uscita Contenente i dati Che volevamo noi Basta ricordarci Che la write Vuole una stringa Formattata Nel modo corretto Come vogliamo Che i dati Compagino Seguita da un barra n Dimmi C'è questa istruzione qui? Perché io voglio Creare un file Questo punteggi Punto dxt Che contenga Questi dati E quindi Io ho calcolato Quando ho scritto Alla riga 21 Ho calcolato il punteggio Però me lo sono calcolato Solo io Se voglio salvarlo In un file Devo scriverlo Dentro il file E quindi Devo dire al file Caro file Write Scrivi dentro Se stesso Questa stringa Ok C'è anche un altro modo Che non c'era sulle slide Non so perché Nel senso che tutti gli anni Mi ricordo Ma non mi ricordo mai Di aggiungerlo Che è un modo Anche più comodo Per scrivere su file Usando print Allora print Sappiamo cosa fa Stampa video Ma Ho un Parametro Opzionale Di print Che si chiama File uguale In cui posso dirgli Senti Non stampare A video Stampa su un file E la print Si comporta Come la print Quindi può avere Più parametri diversi Posso avere Tutte le altre opzioni Posso usare Fstring E in ogni caso Si aggiunge In automatico Il barra n Quindi tante volte Io commento Io commento questa La stessa cosa Che faccio Con l'istruzione Write La posso fare Con l'istruzione Print Pur di indicare Come parametro Aggiuntivo File uguale Il nome del file In cui stampare Quindi se io faccio questo Nel file punteggi Ottengo la stessa cosa Ecco Notate Io questo file punteggi Se lo paciocco Lo salvo Poi eseguo il programma Le modifiche che ho fatto io Sono andate perse Perché nel momento In cui ho aperto Il file in scrittura Ha azzerato Ciò che c'era prima Quindi questo è un altro modo Di scrivere su un file Usare una print Col parametro in più File uguale Che a volte è più comodo Per la formattazione Essenzialmente Perché la print è più Generosa Nel senso che io Gli ho passato un intero Lei l'ha convertito da sola Il bar n Si l'ha aggiunto da sola Dipende un po' Quanto controllo vogliamo Bar dobbiamo avere Sul formato Dimmi Che io sappia Write ha come argomento Una stringa Se gli passo un intero Perché lui dice Vedi Il metodo write Ha un argomento stringa Se uso print La print La conosciamo Dalla prima lezione Qualunque ancora gli do Le piace Però Possiamo anche vedere Cosa succede Se io passassi A write Un numero intero Perché la risposta Alle domande Tipicamente ve la da python Ve la do io Ci siamo dimenticati Che punteggio Era un intero E lo vogliamo passare A write Ci sono due casi O Write Prende l'intero Lo converte in stringa Me lo stampa lo stesso Oppure mi dà errore Perché dice Volevo una stringa Mi ha dato un intero Quali due casi sia Non me lo ricordo Dovrei andare a leggere La documentazione Oppure ci provo E lui mi dice Errore L'argomento Della funzione Deve essere Una stringa E non un intero Quindi in questo caso Non fa la conversione Se volessi fare la conversione Potrei farla io Ah vuoi una stringa Te la converto in stringa Con un str Con un f string In tanti modi diversi Adesso così ovviamente Non va bene Perché ho dimenticato L'acapo E quindi mi ha stampato Sta roba qua Quindi Dovrei fare Più Barren Allora questo sarebbe Un modo corretto Ho un intero Lo converto in stringa Ci appiccico in fondo Un acapo E mi dà il file corretto Però per arrivare A questo punto qui Hanno inventato L'f string Che diciamo Ci semplifica un po' La vita Ma è la stessa cosa Questi tre Modi diversi Sono assolutamente equivalenti Fanno la stessa cosa Prendo un intero Lo converto in stringa Ci aggiungono un barrenne E lo aggiungono al file Scusa? Quale? Ah non lo so Quale è quello che vuoi Dipende A me piace spesso L'f string Però print è molto comodo Anche Dipende dai casi Diciamo che La prima E la terza Sono in realtà La stessa cosa Nel senso che Uso write Con una stringa Semplicemente Questa stringa La costituisco La costruisco Con la funzione Di interpolazione Dell'f string Oppure la costruisco Concatenando a mano I pezzettini Però è un problema Di string Come faccio Quale modo più comodo Che conosco Che mi viene in mente Per costruire una stringa Così come mi piace Ok E se invece uno Se volessimo usare Eravamo partiti Dalla funzione Che abbiamo detto L'useremo molto poco Write lines Cosa dovremmo fare E dovremmo costruirci Una struttura dati Che piaccia Write lines C'è una lista Di stringhe Da stampare Quindi in quel caso Se volessimo Dovremmo fare Fatemelo fare Qua sotto Come esempio Dovrei costruirmi Una lista Di cose Da stampare E queste cose Cosa sono? Sono i voti Sotto forma di stringa Col barra n Aggiunto Mi viene quasi Voglio di mandarti A stendere Però Lo posso fare La lista da stampare Parte come una lista vuota For voto In voti In tabella voti Prendo un voto per volta Estraggo il punteggio E finio qua E tutto uguale E poi aggiungo Alla lista Il punteggio Quindi faccio Un lista punto append Di che cosa? Del punteggio Sotto forma di stringa Con barra n Aggiunto Quindi Usiamo un f string A questo punto Questo forgira Mi crea la lista Con tutti gli elementi Tutti i voti Sotto forma di stringa Con barra n Aggiunto E alla fine Potrò fare File punteggi Punto write lines Di lista Quindi la differenza È che Prima Ho un ciclo E ad ogni interazione Il ciclo Scrivo una riga Qua sotto Invece È un ciclo In cui mi preparo Una lista E quando la lista È pronta Fatta e finita La stampo Tutta in un colpo Solo Però Spesso Sai Alla fine C'è una certa Tra virgolette Fatica Nel costruirla Come Costruire la lista Stessa Perché Deve essere tutte string Quindi la converto in string E devo ricordarmi Barra n Finale Per questo Si usa abbastanza poco Mentre Read lines Può essere comodo Perché ricordiamoci Noi abbiamo letto L'intero file Con un'istruzione sola Senza necessariamente Dover Fare un ciclo La lì Eccetera Quindi Se posso dire Di solito Il file O lo leggo Col ciclo for O lo leggo Con un read lines E poi lo stampo Con delle print Spesso Ma poi dipende Dai casi Quali sono i dati Magari è già sotto forma Di string A questi dati E quindi Tanto vale stamparlo Ah no C'era anche scritta La print File uguale E qui si vede Che qua Ho usato una print Dove ci sono Due argomenti diversi Il primo è una stringa Il secondo è un numero E la print fa il suo lavoro L'ha sempre fatto Dalla prima lezione Quando stampavamo video Ok Proviamo un altro esempio Basta numeri Mettiamo un testo Una filastrocca Allora immaginiamo Vi vogliamo scrivere Un programmino Che parte da Un testo libero E Scritto su un file E che crei In uscita In output Un file Un altro file Diverso dal primo Che contiene La stessa filastrocca Con le parole Però una per riga Allora Facciamoci la filastrocca Mary.txt Mary è una pecorella No? Non me la ricordo Mettiamo due o tre righe In più Non solamente questa Sì non voglio il video Ciccio Vabbè Per così difficile Ah eccola qua Vedrai che c'è qua Ah mamma mia Vabbè Senti Non facciamo Mary Prendiamo Un po' Di questo testo qua No No Aspetta Ok Un testo qualunque Non lo chiamiamo più Mary Fatemelo chiamare Testo Quindi ho un file Testo.txt Che contiene Delle parole a caso Più o meno a caso Questo è l'inizio Di un testo d'esame Voglio fare un programma Che mi costruisca Facciamo un altro file Chiamiamolo Testo2 .txt In cui le parole Sono una per riga Va bene Quindi potrebbe essere Righe Chiamiamolo Testo per righe Punto pi A livello di algoritmo Cosa posso pensare? Io potrei pensare Ad esempio di dire Leggi Apri il file Testo.txt Poi Leggi Una parola dal file La prossima parola E stampa Scrivi La parola sul file di uscita E poi questo Finché il file non è finito Ci può stare come idea Ci potrebbe stare come idea Se non che Leggi la prossima parola Non c'è una funzione che lo faccia Non è una funzione che Legga una parola dal file Per leggere dal file Avevamo queste funzioni qua Che abbiamo ripassato stamattina Erano qui Posso leggere Un certo numero di caratteri Ma devo sapere quanti sono E che ne so io Quanti caratteri avranno le parole Oppure leggo Una riga intera Oppure leggo il file intero Ma non c'è nessun metodo Che mi dice Leggi la prossima parola Allora cosa potrò fare? Vabbè potrò ragionare Per righe Leggo una riga Che conterrà più parole E poi Da questa riga Separo le singole parole Che sono contenute E quindi non c'è un metodo Per farlo Eh pazienza Allora vorrà dire Che anziché fare così Dirò Leggi la prossima riga del file Separa la riga Nelle parole componenti E a questo punto Per ciascuna Parola Trovata Scrivi la parola Sul file d'uscita E quindi questo Leggi la parola del file Che non si può fare Eh La togliamo Cioè in realtà Per trovare La prossima parola del file Dovrò Leggere una riga E spezzare la riga in parole E prenderà una per una Le singole parole Dove questo separa E' tutt'altro che ambiguo Oh ma No E' tutt'altro che chiaro E' un po' Un po' di ambiguità C'è Io quando ho creato il file Non mi siete accorti Ma ho cancellato Tutta la punteggiatura Nel mio file D'esempio Per ora Non ci sono caratteri Di punteggiatura Tra nel punto finale E' questo apostrofo qua Che poi dobbiamo Mettereci d'accordo Cominciamo a farlo così E poi ci pensiamo A cosa vuol dire Avere un testo Che contenga anche Dei caratteri di punteggiatura Qual è Il concetto di parola Nel caso in cui Ci sia della punteggiatura Ricordate che abbiamo fatto Un esercizio sulle stringhe Che era abbastanza complicato Per andare a trovare L'inizio e la fine delle parole Quindi ci avventuriamo In un territorio Abbastanza Non difendente Difficile ma Con tanti casi particolari Ma Partiamo semplicemente Facciamo finta Che non ci sia La punteggiatura Oppure Non ci interessa Cosa succede Nel caso in cui ci sia Allora in questo caso Ho due file Uno da cui leggo E uno in cui scrivo E un algoritmo Un algoritmo di questo genere Alla fine Man mano che lo leggevo Un'altra possibilità Sarebbe lavorare Separare la lettura E la scrittura Cioè Leggi Tutto il file L'ingresso Che ne so In una lunga stringa Oppure In una lista di stringhe Boh E poi dopo che l'ho letto Posso chiudere il file D'ingresso Elabora La lista di stringhe Separando le parole E quindi mi costruirò Una lista Di stringhe Una lista in cui C'è una parola Per posizione E alla fine Potrò stampare Scrivi Il file di uscita Quindi prima leggo tutto Me lo porto in memoria Costruirò delle strutture dati Delle stringhe Delle liste Che dipendono Dari dati che ho Lavoro su queste strutture dati Per costruire Delle strutture dati Che somiglino All'output Che voglio creare E poi alla fine Riverso sul file di uscita L'output che ho calcolato Leggi prima tutto Chiudo il file di ingresso Elabora i dati Che ho in memoria All'interno di liste O stringhe Fai tutto il lavoro Poi stampa Sono due approcci diversi Quali sono i vantaggi e i svantaggi Nel primo approccio Se riesco a fare l'operazione Man mano che leggo Elaboro e stampo Normalmente è più leggera Non ho da memorizzare nulla Non ho da inventarmi Come costruire strutture dati Per mantenere tutti i dati Che mi servono Ma mescolo un po' tutto Leggi controllo all'ingresso Controllo del formato di ingresso Controllo degli errori Di input Fai lo stampa La formatazione dell'output È un po' tutto mescolato E poi soprattutto Non si può applicare A tutti i tipi di problemi Se io volessi stampare Le parole sul file di uscita In ordine inverso Dall'ultima verso la prima Non posso cominciare a scriverle Man mano che leggo Perché leggo la prima riga Ma non ho ancora nulla Da stampare Prima di stampare La prima riga Del file di uscita Che corrisponde All'ultima parola del file Devo comunque Semi letto tutto Il file di ingresso Quindi a volte Ci sono dei problemi Per cui Non posso Calcolare Un valore di uscita Finché non ho visto Tutto l'ingresso Se devo Scrivere a rovescio Se devo fare un ordinamento Una somma E finché non ho visto Tutti i dati Un massimo Un minimo Finché non ho visto Tutti i dati Non ti posso dire il risultato Allora in quel caso Il primo approccio Non funzionerebbe Sarei obbligato A fare il secondo In cui leggo tutto Me lo parcheggio Poi avendolo in memoria Posso fare tutte Le elaborazioni che voglio Avanti, indietro, sopra, sotto Ordinare E così poi Calcolo i dati Che mi servono E li stampo Quindi questo secondo Approccio Prima leggo Poi elaboro Poi stampo Funziona sempre Al difetto Che devo pensare Un pochino di più Per decidere Come costruire Le strutture dati Che servono Per parcheggiare I dati che ho appena letto E per parcheggiare I dati che sto per scrivere E Se vogliamo Ha un costo maggiore In termini di memoria occupata Perché A un certo punto Il programma Dovrà tenersi in memoria L'intero file Allora finché sono queste Quattro righe Chi si frega Se cominciasse ad essere La Divina Commedia Magari un pochino più lunga Occupa una quantità Di memoria Un pochino più Grande Mentre invece Nel primo caso Occupa solamente La memoria Di ogni Una riga per volta Quindi Il file potrebbe Anche essere enorme Ci mette del tempo Elaborarlo Ma non Non esplode C'è un po' sempre Da farsi questa domanda Se devo elaborare I dati su un file L'elaborazione La faccio Riga per riga Mano a mano Che leggo il file Oppure prima Leggo il file E poi elaboro i dati Dipende dai casi Questo è un caso Molto semplice Per cui E' più veloce questa Nel caso in cui L'elaborazione Sui dati Sia complicata Quasi sempre Andiamo nel secondo caso Leggo Finito di leggere Ci penso E l'elaboro Quindi Nel nostro caso Facciamo la prima soluzione Poi Nel esercito più complicato Faremo la seconda Perché appunto Quando l'elaborazione Diventa un po' complicata E diventa obbligatoria Allora In questo caso Vuol dire Che io ho aperti Contemporaneamente Due file Uno da cui sto leggendo E uno in cui sto scrivendo No? F Chiamiamola F in file d'ingresso Open Testo.txt In modalità lettura E un file uscita Open Testo2.txt In modalità scrittura Occhio che non sia Lo stesso nome Perché altrimenti Mi cancello il file Che sto leggendo E me lo sono fregato Attenzione Come sono spazio Che non dovevo Togli E alla fine dell'elaborazione Chiuderò entrambi i file F in punto close F out punto close In mezzo ci sta il mio programma Che leggerà una riga per volta For riga In F in Da ogni riga Estraggo le parole E le parole Le posso estrarre con Riga punto split Vediamo cosa stiamo facendo Abbiamo già scritto 6 righe E' bene Cominciare a Provare il programma Quindi Apro un file d'ingresso Itero Con un ciclo for Sulle varie righe Quindi Con delle read lines Sottintese dal for Per ogni riga Che è una stringa Che comprende L'intera riga Faccio lo split Che mi da Una lista di stringhe E per ora Stampiamo questa lista di stringhe Ok Sembra che funzioni La prima riga è questa La seconda riga è questa Eccetera eccetera Il barra n finale Sembra che Non mi dia fastidio Perché lo split Ha visto che è in fondo E quindi Non L'ha ignorato da solo Se no per sicurezza Magari io ci metterei Un rstrip Di un barra n finale Che so che c'è Quindi lo tolgo Ma Nel caso della split Lo ignorarei stessa Dimmi Allora Perché c'è questa schifezza qua E lui dice Ha letto sbagliato Dei caratteri dentro il file E sempre pronto a dare la colpa Agli altri No sono io che ho sbagliato Perché mi sono dimenticato Di dire Quando ho aperto il file Che codifica volevo E quello di cui Parlavamo la volta scorsa Il file che ho creato È un file Doverosamente Unicode E quindi ha tutte le lettere Accentate Ma essendo Questo pc Windows Quando apro un file Lui assume La codifica dei caratteri Windows E non quella Unicode Quindi devo dirgli Quando ha E quindi l'ha letto male Per colpa mia però Non colpa sua Encoding Uguale Virgolette UTF Trattino 8 Specifico L'encoding Del file d'ingresso E anche Quello del file d'uscita Quindi adesso La legge giusta Dov'è la letto Accentata che c'era prima C'era la posta Non c'era anche una Accentata da qualche parte Causerà sì C'era sia la posta Perché l'ha accentata E adesso sono giuste Quindi questi caratteri strani Non li vedete Se siete su Mac O su Linux Perché L'encoding Di default È comunque Sempre di Unicode E su Windows Invece bisogna Ricordarselo Quindi conviene Metterlo sempre Perché così Almeno siamo sicuri Che funzioni È corretto Indicarlo Ok Noi 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 Nel file di uscita Nel file di uscita Itero Parola in parole Le devo prendere Una per una E ciascuna La stampo Nel file 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 di uscita Punto write Parola Barra N E se lo eseguo E se lo eseguo E vado a vedere Il testo 2 È vuoto È vuoto Aspetta Perché Ah no Non era vuoto Perché era aperto Da prima Quindi qua Semplicemente Avevo una lista Di stringhe E per ogni parola Di quella lista La stampo Con i metodi Che abbiamo visto prima Una write Con il barra N Una print File uguale Insomma Come volete voi Poi In questo caso Stampo la parola Però Ad esempio Ci sono alcune parole Vedete Che hanno Che insomma Territorio Finisce con un punto Che A rigore Non farebbe Parte Della parola Se nel testo Adesso Complichiamo il testo Punto Mettiamo un punto Un altro punto qua Mettiamo delle virgole Anche se sono un po' Sgrammaticate Rimuovo Un due punti Non so Mettiamo un po' Di punteggiatura Qua Se aggiungo Della punteggiatura Ed eseguo Il programma Testo due Il concetto Di parole Che abbiamo Insegnato In questo programma È molto basico Ciò che è Si è parlato In uno spazio E quindi Sono della punteggiatura Che tipicamente Si è attaccata All'ultima lettera Della parola Viene vista Come parte Della parola stessa Come posso fare A togliermi Dai piedi Sta roba qua Posso ad esempio Usare Di nuovo La funzione Strip Dicendo Prendi questa stringa E togli Dall'inizio E dalla fine Prima Sinistra Destra Dei caratteri Che ti dico io Se ci sono Strip Toglie Se c'è La funzione Strip L'avevamo usata Per strippare Il barra n Dalla fine Della riga Poi la riga L'ho divisa In tante paroline Ogni parola Può avere Della schifezza Ancora intorno E quindi Prima di stampare Questa parola Mi creo Una parola pulita Che sia uguale Alla parola Punto Strip Dei caratteri Che voglio cancellare Quindi i caratteri Possono essere Punto Virgola Punto e virgola Due punti Punto esclamativo Aperta tonda Chiudata tonda Insomma Quelli che vogliamo togliere La funzione Strip Prende la stringa E ti restituisce Un'altra stringa In cui se eventualmente Ci fossero all'inizio E ho alla fine Uno o più Di questi caratteri Non ci sono più E allora Stamperò Non la parola iniziale Ma la parola Che ho chiamato pulita Vediamo se è vero L'ho fatto di girare il programma E testo 2 Questa volta Contiene Le parole Senza La punteggiatura Poi Con questo apostrofo qua Possiamo metterci a discutere Per un anno Se è giusto O non è giusto Che l'evolversi Sia considerata Come una parola sola Oppure no Qualcuno potrebbe dire No ma guarda che in realtà Se c'è l'apostrofo Sono due parole diverse Quindi tu Quando devi Dividere Una parola In stringa Cioè una riga In parole Non solo Devi andare a vedere Dove ci sono gli spazi Ma anche eventualmente L'apostrofo Eccetera eccetera Fate solo attenzione Se pensate questo Che Vi potrebbe venire Da dire Split Spazio Apostrofo Eh beh L'apostrofo Devo metterlo Così Devo mettere Le virgolette doppie Questo è sbagliato Perché Split Poverina Non funziona così Mentre Strip Accetta una stringa Di tanti caratteri E ti cancella Tutti i caratteri Se compaiono Se non compaiono In qualunque ordine Strip Invece Split Se gli passa Una stringa Di più caratteri Lei si aspetta Che come separatore Trovare esattamente Quella stringa lì Non dice Ah C'è Spazio Apostrofo Allora Separo dove c'è Uno spazio O dove c'è Un apostrofo No Ci piacerebbe Ma non lo fa Va a cercare All'interno della stringa Se c'è una sequenza Spazio Apostrofo In quel caso Separa Quindi se io Devo separare Una stringa Sulla base Di caratteri Diversi Devo farlo In più passaggi Devo fare Prima uno split Sugli spazi E poi sulle Parole rimanenti Vado a vedere Se riesco a splitare Ancora sugli apostrofi O su altri tipi Di caratteri Oppure La cosa che si fa In questo caso Magari Combina a fare Dei replace Prima Per trasformare L'apostrofo In spazio E ho bypassato Il problema Nel caso Solo dell'apostrofo Però Vedete che di caso In caso Stiamo là Va trattato In modo diverso Ma sono Problematiche Che ci saltano fuori Adesso Ma sono le stesse Degli esercizi Che facevamo La terza settimana Del corso Quando facevamo Le string Che sembravano Esercizi astratti Così Tanto per complicarci La vita Ma purtroppo Poi saltano fuori Quando dobbiamo Elaborare Dei dati veri Ma sono le stesse cose A questo punto Qua Alla riga 23 Sto semplicemente Lavorando sulle stringhe Fine Non c'entra il file Non c'entra il list Non c'entra nulla Solo che ogni cosa Chiaramente Trova la sua collocazione Ok Questo con Poche righe di codice Ma tante parole O Qualche ragionamento No? È una possibile soluzione Poi Il testo Dell'esercizio Era molto Molto stringato Era qua Diceva Prendi un file Fatto così Leggere le singole parole Un testo E salvarle Una per riga Quindi ci ha lasciato Molta libertà Nel dire Che cos'era Una parola Cioè siamo implementati In un certo modo Cercando di non Complicarci troppo La vita Ok Tutte queste cose qua Le abbiamo già viste Ok Alla fine Questo è l'esercizio Che abbiamo appena fatto Va bene E questo per quanto riguarda Alla fine Se io devo elaborare Dei file In formato libero In formato testo libero Non è che posso Diciamo così Dare delle regole Più precise Ripete Cosa devo fare Ma normalmente Leggo un pezzo Leggo una riga E l'analizzo Separo i vari pezzi E poi ci lavoro Diverso invece Se Avessi dei file Che contengono Dei dati Più strutturati Noi abbiamo già Un esempio Era quello dei voti Nel caso Di Un file Il file dei voti Conteneva Tre Chiamiamoli Campi Per ogni riga Quindi qua Possiamo darci Una terminologia Un pochino più Strutturata Dicendo che Ogni riga Del file Corrisponde a un record Di dati Quindi a un'informazione Strutturata E questi record Sono fatti Da vari campi Cioè la prima colonna La seconda colonna La terza colonna Normalmente Quello il formato Più comodo È avere un record Per riga Cioè ogni linea Del file Representa un voto E ogni riga Del file È dello stesso tipo Delle altre È fatta Nello stesso modo Mentre nella nostra Filastrocca Non sapevamo A priori Su ogni riga Quante parole Trovavo Boh Leggo la riga E poi vedo Cosa trovo Nel caso Dei voti So esattamente Che ogni riga Deve avere Tre campi Di cui il primo String Ha gli altri due Numerici Punto Se no Il file È fatto male La regola È quella La struttura Del file È questa Campi Tre campi Separati da spazi Per ogni riga È una regola Che mi devo dare Se voglio essere in grado Di estrarre In modo deterministico Delle informazioni Strutturate Quindi fatte Di vari campi Allora In questo caso Leggere una riga Una read line O una for Line in file Corrisponde a A leggere un record Sotto forma di stringa E poi ovviamente Dovrò andare Come facciamo Con i voti A separare I vari campi Sapendo qual è Il criterio Di separazione Nel nostro esempio Prima era Lo spazio E dove ci siamo Già detti Che lo spazio Non è che sia Il separatore migliore Perché Analisi Matematica 1 Oltre che essere Pesante come esame E anche lungo Come nome E ha dentro Due spazi E quindi Lo spazio Non è Il separatore migliore Noi abbiamo scelto Il corso Con un nome solo Con una parola sola Quindi Non ci Non Anche qua Cerchiamo di non Creare problemi Allora Tipicamente Si cerca di fare In modo Che i separatori Cioè Che separano I vari campi Sia un carattere Che non compare Non può comparire Dentro i dati veri Quindi Tipicamente Una virgola Due punti Una barra Un carattere Che non Che ha vietato In un certo senso Lo vietiamo All'interno Dei dati veri Allora In questo caso Se è così In questo caso Ci sono dei dati La popolazione Di nostri nazioni Con due punti Separate con due punti Allora Per estrarre I singoli campi Fare una split Non sullo spazio Ma su due punti La split Mi darà Una lista Di due stringhe La prima stringa Zero E questa La seconda stringa Uno E quest'altra Poi questo È un numero Quindi dovrò convertirlo In int In questo caso O in float Nel caso in cui sia un numero Quindi quello che avevamo già fatto No Sull'esercizietto dei voti Leggo come stringa Separ Split Secondo un separatore E poi elaboro Questo è il formato normale In cui normalmente Si trovano le cose Oppure ci possono essere Dei casi Devo dire Poco frequenti In cui anche qua Lavoro a blocchi di dati Ma i dati sono Divisi su più righe Ad esempio Questa è la stessa informazione Di prima Dove ho In una riga Il nome di un'azione Nella riga successiva La sua popolazione E poi ripeto La riga successiva Un'altra nazione Un'altra popolazione E così via Quindi vuol dire Che un record Non è su una riga Ma è su due righe consecutive Possiamo dire Versamente I due campi del record Sono divisi da una capo Anziché da due punti E quindi Immaginatevi Di leggere questa cosa qua In una lista di stringhe Tutte le stringhe Di indice pari Saranno in azione La 0 La 2 La 4 Tutte quelle di indice dispari 1, 3, 5 Saranno la popolazione Corrispondente Se devo fare un ciclo Per leggere questa roba qua Potrò fare un ciclo All'interno del quale Ad ogni iterazione Farò due readline Nazione uguale File.readline Popolazione uguale File.readline E sono esattamente alternate Anche qua Per poter leggere Correttamente il file Devo essere sicuro Che ogni nazione Abbia esattamente Lo stesso numero di righe Se no come faccio a sapere Quindi in questo caso Questo codice Fa proprio questa operazione Leggo la prima riga E la salvo Come country name Leggo la seconda riga La salvo come population Faccio quello che devo fare Che non so E poi Itero Ovviamente L'ultima istruzione Diventa di nuovo La lettura Della riga Classico ciclo While In cui come condizione Ho Line diverso Da stringa vuota Perché è la condizione Che mi dice Che il file è finito Qui non possiamo usare Il ciclo for Cioè non che non possiamo Non ci conviene Usare il ciclo for Per leggere il file Perché il ciclo for Farebbe un'iterazione Ogni riga Quindi internamente Il ciclo for Devo dire Senti ma questa è un'iterazione Pari Allora sto leggendo Population Oppure è un'iterazione Dispari Allora sto leggendo Il canno Su al contrario È un'iterazione pari Sto leggendo Il country name O un'iterazione dispari Sto leggendo Population Quindi complica un po' La vita E non consiglierei Neanche di dire Fare un ciclo for Dentro al quale Faccio una read line Ci può Non è vietato Però alla fine Mi perdo Su che cosa Sta facendo avanzare Il ciclo È sempre bene Avere un punto Di controllo unico E non Pacioccare Con l'iterazione Del ciclo Questo è il modo Che avrei Se Lo volessi leggere Una riga per volta Se invece Lo volessi leggere Tutto insieme Non avrei dubbi Prendo questo Faccio read lines Mi dà l'array Completa La lista completa E poi Gli elementi pari Gli elementi dispari Fine E evito problemi Perché in questo caso Cosa succede Che Il separatore Di campo È uguale Al separatore Di record Qui abbiamo I record Separati da capo Cioè ogni volta Che vado a capo È un record nuovo E i campi Separati da due punti Quindi ho naturalmente Due livelli Lo split Sugli a capo Che mi fa Già la read line E lo split Su due punti Che mi faccio io Qua invece Il separatore È unico E quindi Mi basta Un'aspetto unica Sapendo che però I vari campi Hanno significati diversi Alternati Altri modi Per gestire file Formattati in modo strano Però di nuovo qua Ricordiamoci La cosa principale È sapere esattamente Come è formatato Il file Se voglio Poter fare Avere la massima libertà Quello che posso fare È chiamare read Mi dà la stringona L'unga Sotto il file E poi Una volta che ho quello Mi faccio tutti gli split Le separazioni Che voglio fare Questo lo userei come Ultima Ultima razio In un certo senso Se il formato del file È veramente Antipatico Per cui Una normale read line Non mi dà Il lavoro che vuole Non mi serve No? Normalmente Quello che Tendiamo Normalmente A usare Anche a darvi All'esame Sono files Formattati Circa in questo modo qua Quindi un record per linea Con un separatore Ma anche perché Non vogliamo Che la difficoltà Dell'esame Sia quella di leggere Il file Vogliamo mettere Quali un po' più Interessante Come difficoltà Dell'esame Dell'algoritmo Non tanto Impazzire A riuscire a leggere Il file In modo corretto Quindi spesso Lavoreremo Su file formatati In questo modo E poi vi farò vedere Poi nella libreria CSU Che lo fa Ancora Più comodamente Per noi E Spesso Il modo O meglio Se decidiamo Che ci fa comodo Leggere L'intero file Come lista Di string Come dicevamo Prima E poi dopo Ci elaboriamo Queste string Per conto nostro Possiamo fare Un readlines Qui ci sono due Modi equivalenti Di scriverlo Questo funziona Ma non è molto Leggibile Nel senso che Poiché in file È un contenitore Crea una lista Che contiene I stessi dati Del contenitore Cioè le righe Però Qua mi sembra più Chiaro Cosa sto facendo Mi sembra un po' Un magheggio Per nascondere Ciò che voglio fare Ok Diciamo che Alla fine Tutte le operazioni Sui file Si basano Quelle vere e proprie Sui file Si basano Su queste cinque funzioni Qua Read Readline Readlines Write Writelines Open E close Tutto il resto Del lavoro È lavoro Sulle stringhe E sulle liste Facciamo solo attenzione Che la vera limitazione Del file È che una volta Che ho letto un dato Non lo posso più rileggere Quindi se mi serve Lo devo salvare In una lista Quando scrivo un file Una volta che ho scritto Una riga Non posso più tornare indietro A scrivere quella precedente Posso solo andare avanti Quindi devo impostarmi I miei algoritmi In un modo sequenziale Se fatico a impostare L'algoritmo In un modo sequenziale Perché mi piace Andare avanti indietro Con i dati Tranquilli Mi leggo i dati prima Li elaboro come voglio Li stampo dopo Quindi separo L'operazione di lettura E scrittura Magari fate due funzioncine Def Leggi file Def Scrivi file E tutto il resto Del programma Lavorerà Con le strutture dati Ecco Prima di fare una piccola pausa Volevo citarvi Una istruzione Stupida ma comoda Che ci permette Di evitare Di ricordarci O non rischiare Di dimenticarci Se vogliamo dire così Di scrivere L'istruzione close With È un'istruzione Che crea un blocco Apre un blocco Apre un blocco Che vuol dire Che c'è due punti E un blocco di istruzioni Andi date Si chiama Contest manager Cioè apre un contesto Che poi viene chiuso Automaticamente Quando esco dal blocco Si usa in tanti casi Noi lo vediamo Associato ai file Crea un contesto Nel quale il file È aperto Quindi quando io scrivo Un'istruzione di questo genere With Open Due punti Fai roba Qui quando sono qua dentro Il file è aperto Quando esco da questo blocco Automaticamente Viene chiuso il file Quindi l'operazione di close Non è più un'operazione esplicita Che faccio io Ma è semplicemente L'uscire dal blocco with All'interno del quale L'avevo aperto Poi c'è la clausola es Che dà un nome Alla variabile file Quindi anziché scrivere Outfile uguale open Scriverò with Open as outfile E questo è un po' comodo È comodo semplicemente Per non Dover scrivere la clause E soprattutto ricordarci Di scriverla Perché a volte Appunto Visto che siamo concentrati Su elaborare i dati La chiusura del file Si dimentica frequentemente Quindi Adesso and avanti A volte Anziché scrivere open e close Scriverò with Sappiamo che è la stessa cosa Dimmi Se apro un file con w Il contenuto precedente Di quel file è perso Se devo aggiungersi Non lo apro con w Ma lo apro con a Che vuol dire append Quindi scrive in fondo Ci sono serie modalità diverse Di apertura del file Bright Significa scriverlo dall'inizio A di append Significa scriverlo dal fondo E quindi se c'è già Non lo distrugge Ok Vi lascio All'intervallo E come vi ho scritto sul gruppo Dopo l'intervallo Proviamo a cominciare A fare questo esercizietto qua Così cominciamo a toccare Con mano Qualche tema d'esame Che già Per questo qua Lo sappiamo già fare In questo momento 15 minuti come al solito Riprendiamo le 1.15 Quelly Cominciam Grazie.